Ciao a tutti, allora, ma dovrebbe veloci giusto per... perché sì, allora, purtroppo questa settimana ho avuto un lutto di una persona a me molto cara e questo mi ha messo in un estremo bad mood, anche sad mood, insomma ho fatto alcuni ragionamenti e qua dentro questa settimana funzioniamo un po' poco, per cui il video di domenica che volevo fare mentre mi rasavo non lo farò perché non ho la, come posso dire, la testa per farlo, non ho la testa per farlo per molteplici ragioni, ma principalmente perché quando succedono queste cose è sempre difficile, è sempre difficile, anche se io lavoro in un posto in cui fondamentalmente vedo la morte tutti i giorni, ma come voi ben sapete alcune persone ti immagini che non muoiono mai e quando succede devastante, devastante, per cui niente, questo fine settimana farò la solita cosa del vino perché quello, insomma, è fondamentalmente il motivo principale per cui esiste il canale, l'ho sempre detto, ma niente orologi, niente orologi e niente divertimento. Nelle prossime settimane, ecco, quindi se nelle prossime settimane sarò un po' più, un meno presente su YouTube eccetera, non ci sono problemi particolari, insomma, ecco, voglio sorprendermi un po' di me, specialmente la prossima settimana perché ho delle ferie e devo un minimo evadere, evadere perché comunque mi sono reso conto che devo tornare ad un livello inferiore, ok? Parlando martedì con il mio, penso anche di poterlo dire, amico Alberto Moro che è uno dei miei primi follower ma soprattutto, appunto, ripeto, una persona che considero comunque vicina, ancorché lui abita in Canada, lui mi ha definito una persona molto grounded, quindi con i piedi per terra e forse mi stavo rendendo conto che questa cosa mi stava un po' sfuggendo di mano e quindi è necessario che io prenda del tempo per capire. tutto lì, perché comunque si arriva a determinati livelli di stress, di anticipazione, di cose e poi ti rendi conto che basta veramente poco e tutto quanto collassa e io non, mi è già successo e non voglio che capiti più chiaramente perché, perché sì, offio no? per cui niente, adesso ci sarà appunto il video sul vino, quindi il nebbiolo di Omar che mi preme fare appunto perché, ripeto, questo canale lo diceva anche il vecchio nome, Wines and watches, prima vengo a vivere e per gli orologi appunto mi prendo una piccola pausa, una settimana giusto per rifiatare, per riassestare e ricomporre il tetris, tutto lì, basta, volevo solo dire questo, purtroppo, come ho già detto prima, insomma, ripeto, sono una persona molto volatile sulle mie passioni, no? e sebbene adesso chiaramente con l'età io riesca, diciamo così, a mallearmi meglio e a riuscire a capire di più chiaramente quello che conta e quello che no, ogni tanto parto e di conseguenza in quei momenti lì devo un attimino rifiatare però, insomma, assestamento doveroso che capita, che capita perché c'è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso che è stata la morte di questo amico barra persona che c'è sempre stata, per me, nei momenti importanti posso solo dire che comunque la prossima settimana, anche se molto probabilmente non pubblicherò niente farò qualche video sicuramente a casa, ho intenzione di cominciare a fare i video sul Seamaster degli anni 70 sicuramente farò un video sul primo anno con il Longin Big Eye e di soliti video sui bini, insomma, ecco e con questi video, insomma, mi riempirò il prossimo mesetto, insomma, tutto lì ok cose normali per me, cose normali, quindi non fateci caso più di tanto, ok